Alguero TC Express Alessandro Nasone, il voto dell'opposizione che serviva alla maggioranza per andare avanti è arrivato da lei? Sì, con sofferenza è arrivato da me perché comunque credo che una città negli ultimi 15 anni ha vissuto tre commissariamenti, una città che non parla più di politica, che non parla più di ciò che è bene per Alguero ma parla soltanto di Beghe e questo non può andare avanti. Dunque il mio voto è un voto aiutare il sindaco a scollinare fino a domani perché l'obiettivo del mio voto, del dodicesimo voto, era quello di creare i presupposti per vedere se anche ad Alguero c'è la possibilità di rivedere il centro-sinistra unito perché solamente il centro-sinistra unito può governare in maniera efficace questa città. Lei da domani si ritiene organico la maggioranza o questo è un appoggio estemporaneo magari esterno? Io non mi reputo organico la maggioranza, in questo momento ci sono tanti discorsi che il sindaco deve fare, il capogruppo del PD Bimo Pirisi ha chiesto le sue dimissioni, domani vedremo che atteggiamento assumerà il sindaco su queste richieste del PD ma anche sulle richieste del sottoscritto ma anche quelle che arrivano dalla sua maggioranza. Credo che ormai è arrivato il tempo di riunire quello che si è rotto e solamente attraverso questa possibilità di riunire un gruppo di persone che si identificano all'interno del centro-sinistra può continuare questa esperienza governativa, altrimenti certamente non può essere un dodicesimo che può portare il sindaco al 2019 ma credo che ha necessità di allargare la maggioranza. Quindi in caso di una non dimissione? Vedremo. 12 voti favorevoli, 11 contrari e un consigliere che è uscito dall'aula, il bilancio è stato approvato. Passa il rendiconto, scongiurato il commissario, per ora c'è da lavorare nel senso che si apre come ho detto in aula una fase di verifica che deve portare a una nuova maggioranza e quindi inizia immediatamente la trattativa con il Partito Democratico per un accordo di tipo programmatico. Il consigliere Pirisi del PD è uscito dall'aula, prima le ha chiesto, anzi le ha detto che si aspetta domani le sue dimissioni. Ma sì, è nei fatti, insomma 12 consiglieri non sono sufficienti, la maggioranza deve essere almeno di 13, quindi questo vuol dire che ci deve essere in tempi brevissimi la ricostituzione di una coalizione che sia in grado di governare, di portare a termine i punti programmatici e soprattutto di concretizzare quanto abbiamo già messo in cantiere. Se questo passa per dimissioni formali, quindi per 20 giorni di tempo, per quelli che la legge assegna, per risolvere la crisi oppure riusciamo a risolvere in tempi brevissimi, questo dipende un po' dalla volontà di tutti, il Partito Democratico e il tavolo di centro-sinistra compreso. Siamo lontani dalla verità, se ci immaginiamo un sindaco dimissionario per 20 giorni e poi una nuova maggioranza a 14? Ma guardi, è obiettivo di tutti non perdere neanche un giorno, per cui siamo immediatamente al lavoro. Valuterò, valuterò anche con il Partito Democratico se è necessario che faccia questo atto formale delle mie dimissioni, per il quale comunque sono pronto, se riusciamo davvero, perché insomma non è che lavoriamo da oggi, se riusciamo in tempi rapidi invece a formare una nuova giunta, un nuovo governo complessivo della città di centro-sinistra. A conclusione di questa seduta si aspettava un risultato del genere? Ma abbiamo lavorato in questo senso, chiaramente il dato politico è quello che non ci sarà un commissario a partire dai prossimi giorni, il rendiconto è stato approvato, però insomma ci aspettano provvedimenti amministrativi importanti, se pensiamo al bilancio consolidato a fine mese, il piano di utilizzo dirittorale, il piano delle partecipate. Sono atti che dobbiamo portare in consiglio quanto prima e che certamente hanno bisogno di una maggioranza e di un governo stabile. Consigliere Salaris, alla fine il sindaco si è salvato? Ma dipende dai punti di vista, io credo che il sindaco Bruno oggi abbia poco da cantare vittoria, il sindaco Bruno comunque oggi ha visto fallire in maniera anche abbastanza misera il suo mandato, perché un sindaco che oggi si bea di poter governare una città come Alghero con le sue difficoltà, con 11 consiglieri comunali, alle volte 12, diciamo che la dice lunga sul senso di democrazia, ma soprattutto sul senso di capacità di tenere una maggioranza in piedi. Mario Bruno comunque è un fallimento per questa città, è un sindaco che non è riuscito a esercitare una leadership che l'abbia messo in condizioni di allargare la sua maggioranza, l'ha persa nell'arco di un anno e mezzo, quindi io oggi non direi che il sindaco Bruno sia salvato. Io dico che oggi probabilmente il sindaco Bruno dovrebbe prendere coscienza del fatto che la politica non si fa per galleggiare, la politica si fa per avere i numeri per governare e lui non è in condizioni di farlo. In senso all'opposizione vi aspettavate un risultato del genere? L'opposizione diciamo che oggi forse si poteva aspettare questo risultato perché negli ultimi giorni c'erano stati dei segnali, ma ribadisco io non vedo, la festeggere è proprio come una vittoria di Pirro, qualcosa che diciamo che domani già lascerà la mano in bocca agli algheresi che potranno constatare quanto poco è credibile un sindaco che non è in condizioni di avere i numeri per governare. Donatella Marino, voi siete stati il partito che avete scoperto il nervo della maggioranza uscendo, qual è la vostra posizione oggi dopo questa seduta? Scoperto il nervo, non mi piace tanto questa affermazione, però devo dire la verità, non mi è piaciuto neanche come esordito il sindaco, additando l'Udc, la situazione in cui si trova oggi la maggioranza, additando e dando le colpe all'intero Udc, quando così non è, lui lo sa benissimo, anche perché sui punti che noi abbiamo, siamo tre anni che chiediamo di risolvere, i punti che abbiamo sempre chiesto, che ormai conosciamo tutti, lui invece di trovare delle soluzioni all'interno del partito Udc, cosa ha fatto e è andato a buzzare le porte di altri partiti. Quindi ad oggi se lui ci fosse venuto incontro, ma sempre per richieste degli algeresi, se lui avesse trovato degli accordi, delle soluzioni a quanto richiesto, oggi non ci saremmo trovati con questa maggioranza che non esiste. Quindi deve prendere atto che ha fallito, non so quanto potrà andare avanti. Oggi in opposizione vi aspettavate che il sindaco trovasse voti sui vostri banchi? Sì, c'era questo sentone, però rispetto alle scelte che hanno fatto i colleghi, quindi non ho assolutamente nulla da dire. Ognuno è responsabile delle proprie scelte. E da domani? E da domani si vedrà, chi vive vedrà, si dice così. Mimo Pirisi del Partito Democratico, la sua scelta ha fatto discutere soprattutto in seno all'opposizione? Sì, la mia scelta ha fatto discutere l'opposizione, ma questo era inevitabile. Io non faccio riferimento all'opposizione, ma faccio riferimento al mio partito. Il mio partito ha fatto una riflessione a tutti i livelli, dal ghero fino a livelli superiori, e ci ha dato la possibilità di esprimere il nostro disagio scontento nei confronti del consuntivo, ma anche preparare una riapertura verso un quadro nuovo, verso un nuovo centro-sinistra, e questo dovrà passare naturalmente dalle dimissioni del sindaco. Se questo avverrà, ci sarà una nuova stagione per quello che potrà durare, un anno e mezzo, due anni, il resto della legislatura, dove anche il Partito Democratico, come forza responsabile, potrà fare la sua parte. In questo momento è questo il percorso che noi abbiamo tracciato. Quindi si prevedono, così come ho detto in Consiglio, le dimissioni del sindaco, un'apertura di una crisi formale, un tavolo di centro-sinistra e poi via le altre cose. Il suo compagno di partito Enrico Daga ha dato un voto, un no contro il bilancio, che ha definito chiaramente politico. Sì, il voto nel bilancio, quello era un punto che era, concordavamo, ma l'abbiamo concordato a tutti i livelli, perché, e l'ho anche spiegato, come l'ha spiegato lui, il voto sul consultivo era chiaramente negativo, perché noi non abbiamo partecipato in nessuna fase a quello strumento. Naturalmente, come forza responsabile, abbiamo lasciato un'apertura alla prospettiva, al futuro, e quindi abbiamo articolato così la nostra posizione. Il sindaco, ai nostri microfoni, ha detto che può anche pensare alle dimissioni e da sindaco dimissionario, quindi in 20 giorni, cercare di allargare la sua maggioranza. Al Partito Democratico questo passo basterebbe per entrare in maggioranza? Ma non è una questione di entrare il Partito Democratico, è una questione che va ripreso completamente tutto il quadro di centro-sinistra. Dovrà essere fatto un riassetto di tutto, anche del programma da qui alla fine della legislatura. Quindi si dovrà aprire per forza una fase nuova, che potrà prendere sicuramente le cose poche, quelle che sono positive, di questi tre anni e mezzo, ma deve rivedere altre cose, altre situazioni, che magari il Partito Democratico sicuramente li metterà sul tavolo. Abbiamo visto alcuni rappresentanti, non di Alghero, ma regionali del vostro partito qui in Consiglio. È previsto un incontro per parlare tutti assieme di questa situazione? Allora, Alghero con tutto il rispetto non è Bultei, non è un paesetto di cento anime. Alghero è il secondo centro della provincia di Sassari, un centro importante, un centro dove c'è una forte attenzione del partito a tutti i livelli, questo l'ho anche detto nel mio intervento. Quindi si sentono tutti coinvolti e credo che verranno tutti coinvolti in un ragionamento, dove ci dovrà vedere in maniera lineare, se le cose vanno in una certa maniera, sostenere un quadro nuovo. Questo non è detto che si possa fare se non ci sono le condizioni, però certamente il Partito Democratico questo passo per sedersi nel tavolo di un ragionamento questo sicuramente lo farà con responsabilità, così come ha fatto in passato, ad esempio un anno e mezzo fa, però in quel momento non c'erano le condizioni politiche e quindi è andata come è andata, voi lo sapete. Oggi siamo in un altro momento storico e quindi questa è una cosa che noi andremo a vedere in questo tavolo che verrà messo in piedi dall'intero centro-sinistra e il sindaco. Io credo che il sindaco sia la parte finale del ragionamento, quello che è importante per il Partito Democratico è che si ripristini il centro-sinistra d'Alghero, allargato, autonomista, sardista, sovranista, quello che è, e che il problema ritorni, la discussione ritorni alla politica e alla coalizione. Se la coalizione troverà un'amalgama, questa legislatura potrà avere la fine naturale, se questo non avverrà, vorrà dire che tutti quanti insieme decideremo di fare altro. Questo è negli obiettivi del nostro partito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.